Al 30 aprile 2023 il mio patrimonio monta a 437.995,47 dollari. E sì, questa è una nuova puntata dei miei investimenti, la rubrica mensile dove tengo traccia del mio patrimonio e di tutti quelli che sono i miei investimenti. Questo giro voglio fare qualcosa di un po' diverso, infatti non ho un copione ma giusto un piccolo canovaccio, quindi improvviserò, prima di tutto per vedere se sono ancora in grado e secondariamente anche per vedere se magari così viene fuori una qualche considerazione diversa che di solito non farei. Se la cosa piace fatemelo sapere nei commenti che magari la ripropongo in futuro. Detto questo, prima di iniziare, come ogni volta, voglio ricordarvi sempre tre cose. Io non sono un consulente finanziario, quindi prima di fare ogni spostamento con i vostri soldi fate le vostre opportune considerazioni. Seconda cosa, di tutte le cose che menzionerò in questo video, sotto in descrizione trovate tutte le risorse e i dettagli se volete andare ad approfondire. E sempre in descrizione trovate l'indice di questo video, anche se come sempre il mio consiglio è di vederlo tutto così avete anche un contesto generale. Fatta l'introduzione, la mia intenzione era di dividere secondo canovaccio il video in tre parti. Prima una revisione generale del mio patrimonio, dopodiché parlare un attimo dei movimenti che ho fatto dallo scorso mese, ed infine raccontarvi cosa ho intenzione di fare in futuro. Perciò partiamo. Per quel che riguarda la revisione generale del mio patrimonio, io partirei prima di tutto dalla diversificazione. In questo momento il mio patrimonio è 37,4% ETF, 24,8% Stock, 9,9% RoboAdvisor, 3,1% Peer-to-Peer Lending, 9,5% Crypto, 7,8% Private Equity, 3,9% Cash e 3,6% Investimenti Alternativi. Questa è la composizione del mio portafoglio divisa per genere. Poi se volete vedere nel dettaglio ogni genere da cosa è composto, qui vi lascio il listone con tutto il mio patrimonio, con tutti i servizi che io utilizzo per avere questa composizione. Perciò se volete stoppate il video così vedete ogni singolo asset. In tutto questo, giusto per farvi capire lo scheletro, ci sono tre piani d'accumulo principali che sto portando avanti e uno in test. Il più grande e principale in questo momento è quello che sto portando avanti su Interactive Brokers, che è un'evoluzione del piano d'accumulo che stavo già portando avanti su Trading 2.0.2 AISA, un conto che io avevo aperto perché avevo delle agevolazioni quando ero residente a Londra. E questo piano d'accumulo è formato da due ETF, uno di Lixor sui mercati sviluppati e uno di iShare sui mercati emergenti. Su questi due ETF investo mensilmente 3.000 dollari su uno e 3.000 dollari sull'altro. E come vi dicevo prima, è un'evoluzione del precedente piano d'accumulo che avevo su Trading 2.0.2, dove invece una volta stavo accumulando lo stesso ETF sui mercati emergenti, insieme a Berkshire Hathaway e un ETF sul mercato statunitense. Poi se andiamo a fare i conti, l'insieme di questi due è parte preponderante del mio patrimonio, perché in totale cubano circa 175.000 dollari, che è circa il 40% del mio patrimonio. Poi il secondo piano d'accumulo principale che sto portando avanti è una torta a tema tecnologico che sto portando avanti su Trading 2.0.2. Su questa torta investo mensilmente 2.000 sterline e in questo momento pesa 62.000 dollari, quindi circa il 14% del mio patrimonio. Vi faccio scorrere lentamente la sua composizione, così potete vedere anche cosa c'è dentro e su cosa sto investendo. Poi se volete, qui sotto in descrizione vi lascio il mio link in vita un amico per Trading 2.0.2, tramite il quale se vi iscrivete a Trading 2.0.2 e depositate qualcosa, potete ottenere come bonus un'azione fino a un valore di 100€. Poi se andate a cercare il mio profilo all'interno di Trading 2.0.2, potete anche trovare la mia torta aggiornata quotidianamente. Mentre il terzo piano d'accumulo che sto portando avanti, giusto per darvi un ordine delle cose, è il piano d'accumulo di 1.100 dollari settimanali, ed in realtà questo si può considerare anche una semispeculazione, perché ha un orizzonte temporale di accumulo e di accumulo di circa due anni, ed è il piano d'accumulo cripto, 85% bitcoin, 15% ethereum. In questo momento pesa 27.000 dollari, un po' più del 6% del mio capitale, però è in grande aumento perché mensilmente ci sto investendo 4.400 dollari. Poi se dovessero interessarvi le piattaforme su cui sto facendo questi acquisti, i miei acquisti sono splittati tra Binance e OKEx, due tra gli exchange più grandi sul mercato, sempre se volete qui sotto in descrizione trovate i miei link in vita un amico per entrambi, date principalmente un occhio a quello di OKEx perché in questo momento hanno un bonus un po' più pompato del solito. Poi per quel che riguarda la spiegazione completa e dettagliata di questo piano d'accumulo, sto preparando un video a parte, perché secondo me lo studio che ho fatto su questo piano o speculazione in base a come la vogliate chiamare potrebbe essere qualcosa di interessante oltre al fatto che in questo momento ci troviamo esattamente a un anno dall'Halving, evento importantissimo nel mondo cripto, di cui tra l'altro ci ho anche fatto un video. Andando avanti per quel che riguarda il piano d'accumulo in test, concludendo anche la lista di quelli che sono i miei nuovi investimenti rispetto allo scorso mese, come da quasi due anni a questa parte, investo mensilmente 500 sterline su Monifarm. In questo momento il capitale che ho su Monifarm sono circa 20.000 dollari, circa il 5% del mio patrimonio e come vi dicevo nel video fatto con loro da poco, questo è un piano d'accumulo che ho aperto in test in collaborazione con loro, di cui essendo passati quasi due anni presto avrete le mie conclusioni. Detto questo abbiamo concluso gli acquisti che porto avanti regolarmente. Per quel che riguarda i nuovi acquisti spot, quindi acquisti che faccio one time, lo scorso mese non ho toccato nulla rispetto alle azioni e a tutti gli altri asset che avevo. Come potete vedere, se avete stoppato il video di prima, se no potete stopparlo anche ora e qui trovate tutti i miei asset, dallo scorso mese ho ritirato tutto il capitale che avevo all'interno di Bondora, una piattaforma di peer-to-peer lending e per chi non lo sapesse il peer-to-peer lending consiste nel prestare del capitale a qualcuno ed ottenere degli interessi in cambio. Io comunque ho prelevato tutti i miei soldi ed è una cosa che sto iniziando a fare anche dalle altre piattaforme di peer-to-peer lending in cui investo, perché con il continuo rialzo dei tassi da parte di tutte le banche centrali, i Bond per quel che riguarda l'interesse pagato stanno diventando sempre più interessanti. Perciò in futuro assottiglierò la parte di investimento nelle piattaforme di peer-to-peer lending e con questo capitale, con ogni probabilità, andrò ad acquistare dei Bond. O in alternativa, se non farò questa cosa, la mia intenzione per i prossimi sei mesi, rispettando e continuando ad investire pur sempre nei pieni d'accumulo che vi dicevo prima, oltre a quello è aumentare la parte, la percentuale di liquidità nel mio patrimonio. E questa mia scelta non deriva da una mia riflessione di sfiducia nei mercati o dal fatto che io possa pensare che ci sarà o meno una recessione. Non voglio aumentare la mia liquidità per questo motivo, ma perché in questo momento la parte liquida del mio patrimonio ammonta al 3,9%, circa 17.000 dollari, che sicuramente è una percentuale bassa e voglio portare almeno al 10% di base, ma oltre a quello ho fatto il ragionamento che se voglio aumentare esponenzialmente il mio patrimonio, ho assolutamente necessità e soprattutto voglio per passione investire in progetti miei e per fare le cose che ho in mente avrò bisogno di un po' di soldini. Quindi nel prossimo futuro, se vedo che c'è la possibilità di liquidare qualcosa perché sta overperformando il mercato, o se vedo che a livelli interessanti rispetto ai miei acquisti e ai miei piani pregressi, liquido e questo vale per qualsiasi tipologia di asset che ho all'interno del mio portafoglio. Sempre, almeno per questo momento, e questo lo sottolineo rispettando e continuando tutti i piani di cui vi parlavo all'inizio. Ora in realtà, e vi faccio scorrere nel frattempo il mio patrimonio un'ultima volta, potrei andare avanti a parlare per ore di tutte le cose che sono successe in passato, del momento attuale in cui si trova il mio patrimonio, del momento attuale in cui mi trovo io. Voi, se volete farmi qualsiasi domanda, lasciatemela nei commenti. Poi vi ricordo che mi trovate sempre in live su Twitch, quindi potete partecipare, vi lascio il link in descrizione e sono disponibile per rispondere a tutte le vostre domande. Iscrivetevi se non volete perdere tutti i miei futuri video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!